Sì, sicuramente sarà il nostro collega in casa, il nostro consigliere, il nostro grande amico, le lunghissime, le lunghissime, le chiacchierate, sì, è bellissime, le chiacchierate, sì. Ok, sto contento che viene un bacio, tanto tanto d'altro, bacio a Massimo, bacio a Massimo. Dai, ah ma così? Ah perché vuoi il bacio, io voglio il bacio. No, stai da via, bacio a Massimo. Sì, stai da via.